L'orata all'acqua pazza è un piatto di pesce semplice ma gustoso è una valida alternativa per grillarsi un bel pesce ottenendo un sapore un po' diverso e un risultato più succoso che richiamerà inevitabilmente la scarpetta potete ovviamente usare il filetto del pesce che preferite predisporre il vostro barbecue per una cottura diretta versate un filo d'olio nella padella e attendete che diventi bollente quindi soffriggete l'agno fate saltare poi un paio di minuti i filetti di orata su entrambi i lati versate un bicchiere di vino bianco e lasciate andare per un paio di minuti aggiungete poi i pomodorini e le olive lasciate cuocere mescolando in modo che il pesce non si attacchi fino a che il sughetto non si sia raddensato servire caldo con il suo sughetto o anche freddo in insalata se questo video vi è piaciuto mettete mi piace e cliccate sulla campanella in modo da venire avvisati ogni volta che inseriremo ulteriori contenuti inoltre vi ricordo di seguire il nostro blog a tuttagriglia.com dove troverete un sacco di recensioni e ricette in più i nostri canali social ufficiali grigliare duro facebook e instagram dove più di 100.000 persone ti aspettano per scambiarsi consigli e ricette inoltre se vuoi approfondire ulteriormente tutte le tue nozioni sul barbecue non perderti il nostro videocorso online da zeroagriller.com Grazie a tutti